Cosa è bello, no? Dalla ricchezza, la ricchezza e la bellezza, ricchezza e bellezza. Ma sapete, io per riuscire a capire questo argomento e un po' magari rispondere anche a questo quesito di cui abbiamo parlato anche con amici, cioè la questione su cui magari ha fatto leva a qualche comprensione anche di sgarbi, ok? Vittorio! Questo aspetto è interessante perché se voi pensate per esempio ai nobili di un tempo, giusto? Ci insegnano a scuola che un tempo, siccome essere nobile e ricco era un status symbol, no? Lui dice io sono nobile e ricco, come lo dimostro? Lo dimostro facendo vedere che non ho calli sulle mani, faccio vedere che ho la pelle pallida perché non devo stare nei campi a lavorare perché ai tempi non c'erano le fabbriche, quindi se tu eri un povero, se eri un lavoratore di fatica stavi all'aria aperta e quindi eri abbronzato. Se invece eri uno che non faceva niente tutto il giorno stavi tutto il giorno in queste ville all'ombra, eccetera, non c'era ancora il mito dell'abbronzatura. Cosa è successo? Ovviamente che essere bianchi pallidi e sudatici poteva essere una cosa di figa, soprattutto per le donne, donne nobili, per sembrare nobili si sbiancavano, eccetera, eccetera. Titarella di luna, ecco, ma poi cosa è successo? Che tutti ovviamente volevano sembrare anche loro nobili, quindi anche le donne per sembrare più ricche, per sembrare più belle, anche gli uomini, no? Cioè ci tenevano e si impasticciavano la faccia, no? Questi baronetti di campagna, e lì ve l'avete visti anche, no? Nella storia, avete capito, no? Di che parlo? Persone che volevano essere nobili, ma non lo erano, magari, quindi, cioè di fatto si abbronzavano, come facevano? E si impiastravano di bianco, eccetera. Poi hanno capito che quindi, se io do ad intendere al mondo, alla gente, che essere pallido è figo, perché vuol dire essere nobile, tutti lo vorranno fare, però tutti essere pallidi. Oggi, però, troviamo che invece l'elemento figo è diventato essere abbronzati. È dato tanti anni che è più figo quello abbronzato e quello pallido invece non è bello. Ma c'è stata questa inversione, perché di fatto la situazione non è cambiata molto, tranne che, insomma, uno che era abbronzato voleva dire che aveva tempo di andare in vacanza, andare al mare, in Sardegna e tutte queste cose, no? Mentre invece quello che doveva stare in fabbrica era pallido. Oggi, questa è la seconda fase, quindi passiamo dai nobili, adesso ci sono poi i proletari degli anni 70 e oggi ci troviamo nel 2020, dove abbiamo che di fatto, anche, faccio un esempio, è un po' strano, però se uno ha un bel sedere è povero. Come dice, non è vero, ci sono i ricchi con bel sedere. Dipende. Cioè, anche, se tu voi prendete, per esempio, una donna ricca, abbiamo due possibilità. È una ricca ed è bella, in questo caso è facile anche che sa che il suo rango sociale deriva anche dalla sua bellezza, quindi usa i soldi anche per mantenere la sua bellezza. Può essere una VIP, un'attrice, quello che sia. Però in questo caso vedete che la persona ha monetizzato la sua bellezza, cioè lui in qualche modo riesce, magari perché è persuasivo, per quello che ti pare, perché seduce o perché è semplicemente far vedere il sedere, gli pagano per far vedere il sedere. Però ecco, io se voglio vendermi, vuol dire che non ce li ho i soldi, sennò ero quello che comprava, no? Quindi se io devo vendermi facendo vedere che ho un bel sedere, se invece non ho bisogno di vendermi perché ho già le serose economiche, non me ne frega più di tanto di far vedere il sedere. Questa è una cosa che sembra quasi automatica, perché dal momento che c'è un'associazione psicologica tra bellezza fisica e valore della persona, allora di fatto tutti saranno d'accordo che una ragazza con un bel sedere vale di più di una ragazza che ha un brutto sedere. E siccome questa è una cosa che avvertiamo a livello istintivo, sia uomini che donne, tutte che vanno a fare glutei. Lo dico perché in questa quarantena le ragazze escono, vanno al parco e stanno tutto il tempo a farsi il sedere. Wow, chissà che super sedere che vanno queste ragazze che si fanno il sedere. Ecco, poi da lì si passa all'abuso dialettico dicendo perché io mi voglio bene, io valgo e per valorizzarmi devo avere un bel sedere. Sfugge poi il collegamento alla persona probabilmente che non è avvezza a fare ragionamenti trasversali, sfugge il di collegare tra di loro le cose e ci troviamo in questa situazione dove di fatto se voi prendete anche un grande magnate non gliene frega niente di apparire bello, non gliene frega nulla di apparire bello, a meno che non abbia un ruolo politico allora si rifà la faccia, ma voglio dire a livello umano di contatto con l'altro, la persona che ci tiene molto ad essere bello, a farsi bello eccetera, a apparire bello, lo fa per tentare di aumentare il suo valore, cerca di valere di più. Se ha già dei soldi in tasca, vale già i soldi che ha in tasca. Questo purtroppo nel meccanismo di surrogazione delle funzioni vitali, degli istinti vitali, delle esigenze ataviche, di cui parlava Maslow, parlavano molti psicologi, l'ho sempre parlato, ho spiegato bene, quindi che tendenzialmente il denaro diventa un surrogato di un po' tutto, della riproduzione, del riparo, della casa, del cibo, del nutrimento, della salute, cioè la percezione media della maggioranza di persone è che con il denaro puoi comprarti un partner, la casa, un riparo, la sicurezza, il cibo e la salute. E ovviamente implicitamente anche il rango sociale, quindi perché istintivamente chi ha tutte queste cose ha un rango più alto di chi invece ne ha bisogno, ok? Perché chi ha tante queste cose le può offrire ad altri, ha una dote da offrire, chi non ce le ha non ha un cavolo da offrire, anzi lui tende a prenderle, se io non ho niente mangiamo assieme e mi tocco offrire la cena, ok? Per dire una stupidaggine. E questa è una riflessione interessante secondo me proprio sul fatto che la enfatizzazione della bellezza fisica che oggi il mainstream ci propone in realtà sembra essere quasi un modo di, in qualche modo, dare a intendere alle persone che coltivando alla bellezza fisica diventino più ricche, premiando proprio nello stile sociale attuale la bellezza come un merito. Lo si vede molto nella vanità delle persone che alzano la prima cerniera solo perché sono truccate, invece la abbassano perché non hanno messo il trucco in faccia. Quindi è proprio una sensazione dell'ego, dell'identità delle persone media che è molto legata alla sua vanità. Eppure non è più ricco. Anzi, se fosse ricco se ne fregherebbe. Questo è interessante.